Parli bis e polemiche, a poche ore dall'annuncio della nuova giunta, prime crepe nella maggioranza di centrodestra, Fratelli d'Italia rimasta di fatto senza assessori, passa all'opposizione e in Forza Italia viene meno il supporto del capogruppo Piro e dell'ormai ex assessore Leone. Ha gestito l'emergenza Covid-19 per un anno, traghettando l'Italia tra le varie ondate, dando impulso alla campagna vaccinale. A fine mese il generale Potentino Figliuolo lascerà il ruolo di commissario per tornare al suo posto di comando militare a Covid. La figura di Faustino Somma all'interno del romanzo storico di Angelo Rosario Avigliano, la carrozza del capitano, presentato venerdì sera nella sua vaglio. Realizzati dai genitori e gli alunni della Sinisgalli di Potenza, 20 abiti storici per la parata dei Turchi e la processione di San Gerardo, il progetto Ci vuole Stoffo, annato in collaborazione con l'associazione San Gerardo La Porta, è stato presentato ieri in una conferenza stampa. Calcio, le Lucanedi ci tornano alle vecchie abitudini il Domenicali, Potenza Taranto e Foggia Picerno alle 17.30, le Lucanedi di tutte in trasferta, big match anche per Lago Negro nella A2 di Volley. Ancora una buona domenica a tutti voi e ben ritrovati in studio per l'appuntamento con l'informazione dalla Basilicata. In primo piano c'è la politica con il Bardi Bis e le polemiche. A poche ore dall'annuncio della nuova giunta, prime crepe nella maggioranza di centrodestra. Fratelli d'Italia, rimasta di fatto senza assessori, passa così all'opposizione. E in Forza Italia avviene meno il supporto del capogruppo Piro e dell'ormai ex assessore alla sanità Leone, in particolari nel servizio. Nemmeno è il tempo di annunciare la nuova giunta che Bardi deve già fare i conti con i malumori di un centrodestra sempre più scollato. Se la Lega può esultare per le conferme di Fanelli, passato dall'agricoltura alla sanità e merra confermata alle infrastrutture, è caos all'interno di Forza Italia. Dove il capogruppo Piro e l'ex assessore alla sanità Leone sbattono la porta, come lasciato intendere in una infuocata chat interna agli azzurri. E non bastano assedere gli animi le entrate dei supplenti, acito e bellettieri, dopo il passo indietro di Cupparo nei giorni scorsi. L'ex assessore alla sanità ne fa una questione di dignità e rispetto e non di poltrone, ma ricorda che alle elezioni regionali scorse ha ottenuto più del 50% dei voti della lista di Forza Italia nella provincia di Matera, risultando il più votato in termini percentuali in tutta la regione. E va anche peggio con Fratelli d'Italia. Dopo l'esclusione, l'ormai ex assessore all'ambiente Rosa passa all'opposizione con un posto al veleno rivolto al neossessore Baldassarre, che ieri ha lasciato i meloniani. Dispiace che il presidente Bardi abbia scelto di fare a meno di Fratelli d'Italia nel governo della Basilicata. Hanno spiegato l'onorevole Cagliata, il coordinatore quarto, il capogruppo Coviello e lo stesso Rosa in una nota unitaria. Anche perché ora il Bardi Bis rischia già in partenza di non avere i numeri per andare avanti. Decisive a questo punto saranno le opposizioni di centro-sinistra, dal PD a Italia Viva, passando per i 5 Stelle. Per il governatore il battesimo di fuoco in aula sarà già martedì 15, con il Consiglio regionale. In occasione di manifestazioni che si svolgeranno domattina a Potenza, sono state disposte alcune misure relative alla viabilità nei pressi degli uffici regionali di Poggio Tre Galli. Nello specifico, divieto di transito e sosta in Viale Verrastro e divieti di sosta dei veicoli in Piazzale 21 Marzo di fronte alla pasticceria milanese, per consentire la circolazione e la sosta dei trattori e degli altri mezzi agricoli che parteciperanno alle iniziative di protesta previste. In ogni caso sul posto saranno presenti Polizia Locale e le Forze dell'Ordine a garanzia del regolare deflusso dei manifestanti. Ha gestito l'emergenza Covid-19 per oltre un anno, traghettando l'Italia tra le varie ondate, dando impulso alla campagna vaccinale. A fine mese il generale Potentino Figliuolo lascerà il ruolo di commissario per tornare al suo posto di comando militare al Covid. Ieri l'annuncio, ma sentiamo Fabrizio Di Vito. Il generale Potentino Francesco Paolo Figliuolo dal 1 aprile non sarà più il commissario per l'emergenza Covid. Lo ha annunciato un po' a sorpresa durante la presentazione del libro scritto con Beppe Severgnini, un italiano edito da Rizzoli. Io il 31 marzo voglio passare la mano perché ho un incarico importante come comandante del comando operativo Vertice Interforce e mi voglio dedicare a quello. Penso di aver fatto bene la mia parte, ho visto cose belle e cose meno belle, ma basta così, ha detto all'evento all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Sono un tecnico e voglio rimanere un tecnico. Insomma, nessun ammiccamento ha un futuro in politica. Per ora questa parentesi editoriale in cui mettere un punto raccontando questi 13 mesi caratterizzati dal forte impulso dato alla macchina delle vaccinazioni anti-Covid. Ho scritto questo libro per lasciare traccia di quello che sono, ha detto Figliuolo. Metà parla di questa incredibile avventura che mi è capitata di fare come commissario straordinario, così se avrò dei nipotini magari un giorno leggeranno cosa ha fatto il nonno. Diverse le sue apparizioni sul campo, qualcuna anche in tv per metterci la faccia nei momenti di recrudescenza della pandemia, ma anche la vicinanza alla sua terra come in occasione dell'apertura del lab del Catarra Potenza. Ora un'altra guerra, non meno cruenta, lo attende. Stavolta il nemico non è invisibile, ma servirà comunque tutta la sua sagacia per giocare in difesa e rispondere prontamente insieme alla Nato alle minacce provenienti dalla Russia. Restando in tema, non sono ancora arrivati i dati del bollettino Covid domenicale, dei quali vi aggiorneremo più avanti. Intanto ci separiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. La ITMSRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiavi in mano di capannoni in struttura metallica, il legno lamellare, cemento armato e celle frigorifera d'uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 02 08 806 Capital Fair, specialisti nella lavorazione dell'acciaio tondo per cemento armato e gabbie per pali di fondazione. Materiali di qualità e attrezzature all'avanguardia per soddisfare ogni tipo di esigenza. Lavori di precisione per garantire alti standard qualitativi. Lo staff sempre aggiornato al vostro servizio. Capital Fair, tradizione e innovazione da oltre 30 anni. Altamura, via Gravina 139. Capital Fair.it Riprendiamo con la seconda parte del notiziario la figura di Faustino Somma all'interno del romanzo storico di Angelo Rosario Avigliano, La carrozza del capitano, presentato venerdì sera nella sua vaglio. Tutti i dettagli da Donato Carbonella. La Basilicata del Novecento e in particolare vaglio con le sue genti e le sue storie si intrecciano a una figura ancora oggi d'esempio per tanti lucani. Imprenditore, dirigente sportivo, banchiere e uomo di finanza di caratura internazionale. Quel Faustino Somma che ha rappresentato la visione imprenditoriale e finanziaria di una regione capace di uscire dalla dimensione rurale per proiettarsi nel nuovo secolo. L'infanzia e i suoi anni giovanili sono finiti nel volume La carrozza del capitano, l'ultimo libro dell'autore e paesologo lucano, Angelo Rosario Avigliano, presentato al Museo delle Antiche Genti di Vaglio. Questo romanzo dà un senso proprio ad una figura così importante quale è stato il compianto dottor Somma attraverso la sua straordinaria visione, attraverso le sue straordinarie capacità dove in un periodo particolarmente complicato per il Sud Italia, lui ha generato, in un contesto difficile, delle opportunità che sono ancora adesso frutto di stabilità in tante situazioni. Parlo dal mondo dell'industria per spaziare al mondo della finanza e per arrivare a tanti punti. Però il romanzo in effetti non fa una disamina politica ed economica di tutto ciò. Il romanzo è cuore e sentimento rispetto alla vita del protagonista, che è appunto il dottor Somma, dal giorno della sua nascita che coincide proprio con l'11 marzo, quindi la data scelta per la presentazione a vaglio non è casuale. Lo ringrazio molto per l'opera che ha fatto e per come si è riuscito mirabilmente a collegare la storia di un uomo alla storia poi in realtà non solo del paese ma della Basilicata, del Mezzogiorno, che negli anni successivi alla guerra, dopo le distruzioni della guerra, guarda al futuro con una speranza che poi si traduce in realtà, si traduce in opera, in sviluppo economico, sviluppo sociale. Quindi non è solo la storia di un uomo, la qualcosa ovviamente ci tocca molto come famiglia e per questo ancora lo ringrazio, ma è uno spaccato della società. E' a casa sua insomma il personaggio di cui stiamo parlando perché questa struttura l'ha realizzata lui, l'ha fatta realizzare quando faceva il sindaco e come dire non c'era migliore contesto anche logistico insomma per omaggiare. La narrazione arriva fino al 1965 e in mezzo contempla la storia della famiglia Somma che da vaglio si sposta a Potenza in un affascinante colorato a fresco della Basilicata del Novecento. Lui poi questo viaggio lo continua andando a Napoli e andando a Brescia e tornando a Potenza e c'è in mezzo una storia di un'Italia prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale. Quindi uno spaccato d'Italia che riparte, che è capace di ripartire e dato il tempo che viviamo adesso credo che ci possano essere anche degli spunti per dire che cosa succede durante un periodo di guerra e che cosa succede dopo. Ma cosa manca più di tutto di un profilo come quello di Somma? La cosa che colpisce di più di quello che è stato poi lui è stata la visione che aveva, aveva una straordinaria visione. E' chiaro che una delle caratteristiche che esce fuori è proprio la visione di un uomo che aveva pensato di dover superare le difficoltà di quei momenti pensando al futuro, quindi la dimensione che lui ha sempre occupato era quella del futuro. Il dottor Fossino Somma è stato uno dei più illustri cittadini della comunità bagliese e rappresentava un punto di riferimento per tutta la comunità, sia da un punto di vista imprenditoriale, sia come figura da sindaco che ha rappresentato nella nostra comunità dal 75 all'80 e ha dato un grosso impulso a tutta la comunità, sia da un punto di vista lavorativo, sia da un punto di vista di prospettive future che hanno portato il nostro Paese a legarlo direttamente con la città di Potenza. Spero solo di ritrovare ulteriori figure che attualmente non si riescono a individuare da nessuna parte, però immagino una figura del genere sia difficile attualmente da trovare in giro per tutto ciò che ha realizzato nella sua storia. Ultima pagina sono stati realizzati dagli alunni della Sinis Galli di Potenza, dai genitori, scusate, degli alunni della Sinis Galli di Potenza, 20 abiti storici per la parata dei Turchi e la processione di San Gerardo. Il progetto Ci vuole Stoffo, annato in collaborazione con l'associazione San Gerardo Laporta, è stato presentato in una conferenza stampa, i particolari da Lucia Pietrafesa. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, il 29 maggio tornerà a sfilare per le vie della città la storica parata dei Turchi e i protagonisti saranno le famiglie e i bambini grazie al progetto Ci vuole Stoffa, nato dalla collaborazione tra l'istituto Sinis Galli e l'associazione San Gerardo Laporta. L'iniziativa rientra tra le attività del PON, finanziate con i fondi strutturali europei. Nell'ambito dei laboratori svolti in orario extrascolastico, sono stati realizzati 20 costumi che saranno indossati durante la storica parata dei Turchi e la processione in onore del patrono della città San Gerardo. Dopo due anni di pandemia, che siamo rimasti fermi, non abbiamo potuto svolgere nessuna attività nell'ambito della nostra città. è partito questo progetto Ci vuole Stoffa e con l'ausilio della scuola Sinis Galli siamo riusciti a portarlo alla fine. Quindi quest'anno vedremo nel quadro del 1100 i vestiti che sfileranno durante la parata e il 30 durante la processione. Per noi è stato veramente un grosso successo, visto tutte le difficoltà e le problematiche che abbiamo incontrato durante questi anni. Un progetto che mira a diffondere la storia e le tradizioni tra le giovani generazioni. Vogliamo che vengano riscoperte tutte le tradizioni della nostra città perché come diceva un vecchio presidente Sandro Pertini, un giovane, un popolo che non conosce le proprie tradizioni e che non conosce la propria storia, insomma non riesce nemmeno ad amare la propria nazione. La scuola ha sempre creduto nell'investimento in queste attività extrascolastiche e questo PON è particolarmente importante, non solo perché si realizza con un'associazione importante appunto del territorio, San Gerardo Laporta, che ha collaborato sia nella fase ideativa sia nella realizzazione e promozione delle attività ma anche perché è un modulo dedicato ai genitori. Grande l'entusiasmo fra i genitori che vedranno indossati dai propri figli gli abiti storici realizzati nell'ambito del progetto. Ho partecipato con grande entusiasmo a questa iniziativa, come madre di due bambini è stato realizzato un vestito meraviglioso con l'aiuto ovviamente della nostra tutor della Sarta per per mia figlia di dieci anni che frequenta la classe quinta dell'istituto e posso testimoniare la meraviglia di questo progetto che si è concretizzato nella grande collaborazione, si è creata una vera e propria famiglia quindi l'ottica del laboratorio è venuta fuori, è stata estrinsecata, abbiamo realizzato dei vestiti bellissimi con grande impegno, si è creata proprio quel clima di socializzazione e di collaborazione tra tutti noi e il risultato finale sono questi vestiti meravigliosi che spero piacciono a tutti. Ora una denuncia che arriva direttamente dal sindaco di Potenza, ai giardinetti del francioso, questo che vedete nelle immagini, l'indecente scenario ritrovato stamattina con spazzatura gettata fuori dagli appositi contenitori e giochi per bambini danneggiati all'interno. Il primo cittadino Mario Guarente stigmatizza l'episodio e ricorda che quel luogo in passato frequentato specie di notte da tossicodipendenti nello scorso mandato amministrativo con l'assessore dell'epoca Sergio Potenza, vide stanziare risorse affinché potessero essere installati questi giochi per bambini. Ci riuscimmo, ricorda Guarente, quel piccolo giardino talvolta grigio e cupo si trasformò in un luogo colorato e vissuto da famiglie e cuccioli. Oggi vederlo così fa male al cuore, ma li ripareremo e sostituiremo presto come ne abbiamo sostituiti e riparati tanti nel silenzio assordante di famiglie che neppure si indignano per ciò che i loro figli per strada fino a tardanotte e magari ubriachi distruggono. Non ci saranno telecamere e poliziotti sufficienti, conclude Guarente, fino a quando non torneranno ad avere un briciolo d'amore e di rispetto per i beni comuni. E ora passiamo allo sport, impegni delicati per Potenza e Picerno in Serie C, mentre le Lucane di Serie D saranno impegnate tutte e tre in trasferta. In serata poi spazio alla Serie A2 di pallavolo e allora vediamo nel dettaglio quali sono gli appuntamenti di questa domenica sportiva nell'agenda di Donato Valvano. Il grande protagonista della domenica sportiva sarà il calcio. In Serie C il Potenza sarà impegnato a Luiviani nel match contro il Taranto e proverà a portare a casa altri punti nella corsa salvezza. Sarà un piccolo spareggio verso i play-off invece la trasferta del Picerno allo Zaccheria contro il Foggia, visto che tra le due squadre c'è solo un punto di differenza in classifica. Entrambe le partite avranno inizio alle 17.30. In Serie D è in programma la ventottesima giornata nella quale Francavilla andrà a giocare sul campo del Nola per provare a consolidare il secondo posto in classifica. Trasferta relativamente breve per il Lavello che sarà di scena al vicino di Gravina contro la formazione della coppia di allenatori Lucani, Summa e Ragone. Con la valigia in mano anche il Rotonda che giocherà al Polo Poli contro il Molfetta. In serata spazio alla Serie 2 di pallavolo con la cave del sole Lago Negro che ospiterà alla Palasport di Villa d'Agri il Castellana Grotte. Prima battuta alle 18. E ancora una notizia di sport dalla scherma. L'atleta potentina Francesca Palumbo in forza all'aeronautica militare ha sfiorato la vittoria a Lucca in occasione della seconda prova nazionale degli assoluti di Fioretto piazzandosi al secondo posto. A privarla della vittoria è stata la 32enne pisana del centro sportivo carabinieri Martina Batini impostasi in finale col punteggio di 15-12. La fiorettista lucana aveva superato nei quarti Giulia Amore delle Fiamme Oro per 15-10 e in semifinale Erika Cipressa anche lei delle Fiamme Oro col medesimo punteggio. Il secondo posto di Lucca ottenuto da Francesca Palumbo migliora il risultato ottenuto dalla 28enne fiorettista piotentina allo scorso 19 dicembre ad Erba dove si classificò ancora sul podio ma al terzo posto. Bene, questa era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione. Vi rimando al Tg Flash delle 17 anche per l'aggiornamento sul bollettino coronavirus che non è ancora arrivato. Intanto io mi fermo qui. Grazie per la cortese. Attenzione, una buona domenica a tutti voi. Grazie per la visione.